Consideriamo l'esperienza di Housing Care un'esperienza molto interessante come sito pilota per poter sperimentare un nuovo modello di welfare sociale, un modello di sanità di prossimità dove gli anziani che abiteranno in questi ambienti opportunamente e tecnologicamente attrezzati per rendere la loro vita più facile, un'esperienza importante a livello nazionale, tant'è che a breve Housing Care entrerà a far parte del nostro consorzio, condivideremo esperienze progettuali e faremo della fabbrica del benessere qui a Teramo un sito che si presterà moltissimo alla sperimentazione. La nostra società è presente su diversi fronti, è una società leader in Italia nel campo dell'information technology in generale, i nostri principali clienti sono le grandi aziende che operano nei settori delle telecomunicazioni, dell'industria, dell'energia ed anche della sanità e della pubblica amministrazione. Noi operiamo su più fronti per quanto riguarda il tema in generale della sanità, quello dei sistemi informativi territoriali, cioè legare i cittadini alle istituzioni, quello dei sistemi informativi ospedalieri, seguire il cittadino che accede ad una struttura sanitaria durante tutto il suo percorso di cura all'interno di una struttura sanitaria e poi abbiamo una presenza importante per quanto riguarda invece i sistemi clinico-medicali. Un tema a noi particolarmente caro è appunto quello della telemedicina in generale che per noi vuol dire avvicinare i cittadini alla cura.